Tempo di bilanci, quelli di fine anno. Il WWF stila un resoconto regionale in un 2014 che ha visto l'Abruzzo finire nelle cronache nazionali per disastri ambientali come quello della discarica di bussi. Noi abbiamo segnalato quelli che sono gli elementi principali, ce ne sono alcuni negativi ma anche alcuni positivi. Sicuramente dal punto di vista negativo noi viviamo questo rischio della petrolizzazione della nostra regione e quindi è necessario fare tutta una serie di battaglie a livello locale ma anche a livello nazionale perché le scelte spesso sono strategiche e a livello nazionale devono essere cambiate in quella sede. Poi ci sono una serie di problematiche legate ad esempio alla fauna, pensiamo all'osso. Questo è stato l'anno in cui a Petterano Surgizio è stato ucciso l'ennesimo esemplare mettendo a rischio. Però è anche l'anno in cui sono stati registrati nel Parco Nazionale d'Abruzzo 11 nuovi nati. Quindi questo è un elemento molto positivo. Al tempo stesso anche per i parchi abbiamo ancora una situazione in cui tutti i parchi abruzzesi sono privi di consigli direttivi e quindi c'è un deficit di democrazia, addirittura il Parco Gran Sassi e Monte della Laga è privo dal 2007 del consiglio direttivo però anche questo è stato l'anno in cui è stato finalmente individuato il commissario per la perimetrazione del Parco della Costa di Atatina. Quindi ci sono elementi negativi sicuramente che bisogna contrastare ma anche degli elementi di speranza che bisogna perseguire. Qualche nota positiva resta spiegano ci sono anche buone notizie che arrivano a risollevare le sorti del futuro, dei parchi e delle specie protette. Ovviamente un capitolo importante per il 2014 è stato quello di Bussi. Dopo sette anni è arrivata la sentenza e purtroppo non era quella che si aspettava il WWF. È una sentenza amara perché lascia senza colpevoli, come se non fosse accaduto nulla. Ma non è finita così. Bisogna intanto attendere le motivazioni per capire quali sono le ragioni giuridiche che hanno indotto i magistrati e i giudici popolari a operare nel senso con cui hanno fatto. E comunque il WWF ha già deliberato di continuare la propria battaglia per l'accertamento della verità. Se ci sarà un processo d'appello ci saremo e bisognerà arrivare a capire qual è la verità. Ma il vero problema resta un altro. L'abbiamo sempre detto durante il processo, al di là della condanna dei colpevoli, se ci sono delle soluzioni, se è giusto che sia così, il vero problema è la bonifica. La bonifica non è ancora cominciata davvero. Sono trascorsi sette anni dalla scoperta e sono stati sette anni inutili. Non si può andare avanti così.